E arriviamo a Roma, Capodmundi, 3.000 problemi, anche perché a Roma c'è tutto, il cinema, la televisione, la politica, soprattutto voglio salutare Agostino, un caro amico qui con noi questa sera, e poi c'è il Papa nuovo, Ratzinger, finalmente un pastore tedesco, quest'uomo che a me è piaciuto, soprattutto dopo un mese che era sul soglio di Pietro, quando ha detto, l'uomo non deve diventare un sclavo del lavoro, e a Napoli sono usciti i manifesti santo subito, no io questo giro me l'aspettavo italiano, ma mica per niente, dopo 27 anni di Voitiva, Papa meraviglioso, stupendo, ma nella nostra ignoranza noi pensiamo che il papato sia una cosa italiana, perché siamo abituati ai Colonna, agli Orsini, agli Odescalchi, ai Farnesi, e quindi siamo, pensavo, io me lo immaginavo italiano di nuovo, pugliese, perché no? Mi immaginavo quella mattina che arrivava il cardinale e diceva, nunzio vabis, gaudium magnum, abbiamo un Papa, si imposi il nome Mimmo I, e arrivava questo Papa pugliese. vedo un peccato, ma quando crostiamo, no? Ricordiamo le beatitudini, beati i poveri di spirito, non conserveranno le ciliegie beati i moribondi peggi di così non possono stare beati gli affamati non hanno bisogno dell'aperitivo è andato grazie